Il Salvatore, nostro Cristo Gesù, ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito, dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo, gli scribi che erano scesi da Gerusalemme dicevano, costui è posseduto da Belzebul e scaccia i demoni per mezzo del capo dei demoni. Ma egli li chiamò e con parabole diceva loro, come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non potrà restare in piedi. Se una casa è divisa in se stessa, quella casa non potrà restare in piedi. Anche Satana, se si ribella contro se stesso ed è diviso, non può restare in piedi, ma è finito. Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni, se prima non lo lega. Soltanto allora potrà saccheggiargli la casa. In verità io vi dico, tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i peccati e anche tutte le bestemmie che diranno. Ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo, non sarà perdonato in eterno, erreo di colpa eterna. Poiché dicevano, è posseduto da uno spirito impuro. Parola del Signore. Lode a te, oh Cristo. Oggi dalla pagina di San Marco abbiamo davanti una meditazione da fare per arrivare in fondo alla verità. Veramente fa paura a questo annuncio di Gesù. C'è un peccato che Dio non perdona. Noi sappiamo che la misericordia di Dio è infinita. Sappiamo che l'amore di Dio è eterno e infinito. Sappiamo che Gesù è venuto per perdonare i nostri peccati e lasciare alla Chiesa il potere di rimettere i peccati. Perché il peccato è uguale a demonio. E il demonio è un impero, una potenza che distrugge il segno della bontà, della potenza e dell'amore di Dio e anche della sua misericordia. Il demonio è uguale a disperazione, quindi non Dio. Ecco qua che Gesù dice, c'è un peccato che non viene perdonato. E il peccato contro lo Spirito Santo. Vediamo di capire bene se noi siamo a rischio di commettere questo peccato. frequentando la parola, la preghiera, l'eucaristia, è difficile che noi rimaniamo incollati a questo peccato. Dicono che Gesù è amico del demonio perché fa i miracoli. Ma chi è l'autore principale dei miracoli? Il demonio? Il demonio è un ingannatore. Vi deve sempre dire, oh, fa questo, andrà bene. Non morirete se tu mangi questo frutto. Sempre contro Dio. Ma nell'espressione, cosa buona? Cosa buona e giusta che noi lo diamo a Dio? Il demonio dice, cosa buona e giusta che tu non ti metti con Dio? Perché lui ti tradisce. Allora, l'affermazione è uguale, sia quella di Dio e sia quella del nemico di Dio. Ma mentre Dio è veramente bontà per essenza e opera il bene, il demonio fa proprio il contrario. Tant'è vero che è stato chiamato dai teologi la scimmia di Dio. Deve copiare la scimmia. Guarda come fa la persona e ricopia. E' terribile e pericoloso. Bisogna tenerlo ben lontano. Ragionare secondo Dio. Vi ricordate quella volta che Gesù aveva spiegato bene la ragione della sua venuta, la missione sua, quella di annunciare il Vangelo del Padre e di salvare. E poi dice, per questo morirà sulla croce. San Pietro, quando sente affermare le parole di Gesù, dice, no Signore, non sarà mai che tu vieni condannato a morte per questo. Allora Gesù va via Satana. Pensate che appellativo ha dato. Satana, cioè contro la volontà di Dio che tu non pensi secondo Dio, ma secondo il demonio. La volontà di Dio è la certezza assoluta se noi la compiamo e siamo con Lui. Ma non è semplice, non è facile perché noi facciamo questa mattina un bel proposito. Durante la giornata non si sa che combiniamo. Arrivata la sera magari guardiamo la coscienza e ci rendiamo conto che abbiamo sgarrato. Abbiamo fatto anche noi qualcosa che somiglia a ciò che il demonio consiglia. La coscienza. Questo è il peccato dove la coscienza ci parla. Non può essere lo dice Gesù che il figlio dell'uomo stia a lavorare per il maligno per il regno del demonio. Non è possibile. Voi lo capite. Siete maestri in Israele non è possibile che il demonio sia diviso con se stesso. Io vado contro il demonio e vado nello stesso tempo col demonio. Questo, capite, è una logica non difficile. Allora guardate la vostra coscienza quando dite una parola. Deve corrispondere la verità alla parola. E questa è chiamata la sincerità. Sincerità, sincerità. Vuol dire con la verità. Con verità. Quello che la coscienza vi dice corrisponde a quello che Dio dice. Non siamo nati siamo nati nel peccato ma non per vivere nell'errore nel peccato. Questa pagina di San Marco è molto importante. Una volta per tutte distinguete il peccato dalla grazia la menzogna dalla verità. Dio dal nemico di Dio che è anche nemico nostro. Pregatelo il Signore che tenga lontano quella bestia da voi. pregatelo la madonna. Il rosario è soprattutto per questo. Non troverete mai un santo che abbia vinto le battaglie contro il nemico senza aver avuto l'aiuto della madonna. San Bernardo una bella preghiera dove dice questo. Nessuno potrà mai dire che ricorsa a te per aiuto e tu l'hai delusa. Mai. Maria è veramente con noi. Durante la mese il sacerdote vi dice tante volte il Signore sia con voi ma metteteci sempre questo indispensabile appendice. Padre io voglio anche la madonna con me certo anche la madonna perciò noi introduciamo la messa e quel rosario e ricorriamo alla madonna la invochiamo durante la messa non si celebra una messa senza l'invocazione della madonna fateci caso seguiti con attenzione non vi distraete e alla fine della messa vi renderete conto che tutta la preghiera che abbiamo fatta è bella perfetta completa io mi fermerei ad ogni espressione per dire Signore tu ci hai sentito lo sai che ti stiamo chiedendo allora non dire di no e andiamo avanti e andiamo avanti offertorio consecreazione comunione ringraziamento saluto della pace la pace prima di ricevere Cristo la pace quando ci siamo ritrovati abbiamo terminato la nostra preghiera quella pace vi deve accompagnare la pace significa essere una cosa sola con Dio quando Gesù dice vi lascio la pace significa che lui ha vinto il nostro amico quando dice io vi do la mia pace significa che adesso siamo siamo uniti fortemente con Dio quindi con Cristo quindi con Maria quindi con la Chiesa di Dio la Chiesa di Dio è l'occhio di Dio è la parola di Dio è la potenza di Dio e vincerà ha detto il Signore piccolo greggio non temere non ti lascerò solo non prevale e punte è l'espressione famosa si accaneranno il demonio il mondo ma non prevarranno eleviamo a Dio la nostra preghiera diciamo insieme ascoltaci oh Signore San Vincenzo diacono e martire questo martire di Saragozza è gloria della Spagna e della Chiesa è il prezioso collaboratore del Vescovo Valerio del quale fu decretato l'esilio perché vecchio e balbuziente era in atto la persecuzione di Dio Cleziano la più spietata e la più sanguinosa perché ebbe effetti devastanti su tutto l'impero romano quando ormai i cristiani erano numerosi e diffusi in Oriente in Occidente e in Africa il governatore di Spagna Daciano si trovò davanti il diacono Vincenzo che sembrava avesse atteso quella sfida in tribunale esordì vi stancherete prima voi a tormentarci che noi a soffrire il governatore pesa ogni parola di condanna convinto almeno di scoraggiare le conversioni che stavano verificandosi i supplizi si susseguono fustigazione tortura pena del cavalletto uncini di ferro ossa slogate carni a brandelli poi gettato nella cella buia cosparsa di cocci taglienti quando Daciano si avvicina al martire ancora vivo si trova ad ascoltare queste parole tu mi fai un servizio da amico perché ho sempre desiderato suggellare con il sangue la mia fede in Cristo tu distruggi un vaso di argilla ma non riuscirai a lacerare chi è dentro di me e lui sarà il tuo giudice Daciano ordina di lasciare in pasto alle belve quel corpo ma un grosso corpo lo difende allora lo fa chiudere in un sacco e legato ad un macigno lo fa gettare nel fiume il corpo risale e galleggiando finisce sulla riva i cristiani lo raccolgono e lo seppelliscono con tanta venerazione Sant'Agostino ogni anno il 22 gennaio ricorrenza della morte tesseva l'elogio del grande martire celebre una sua frase il diacono Vincenzo aveva il coraggio nel parlare aveva la forza nel soffrire era il coraggio e la forza che riceveva da Gesù che riceveva che riceveva che riceveva che riceveva